Buonasera, benvenuti a questa presentazione di questo libro, intanto do il benvenuto al maestro Alessandro D'Agostini che ci ha fatto veramente il piacere non solo di pescare questo libro e di tradurlo e poi vedremo l'interesse che ha tutt'oggi ma anche di essere venuto qui perché ha ritagliato lo spazio tra i suoi numerosi impegni, chi frequenta il teatro sicuramente lo conosce perché è stato ospite del teatro lirico più volte e quindi è qui un po' per il suo amore per Cagliari un po' per il suo amore per questa intellettuale francese del fine ottocento Marie de Rennes che in Italia non è molto conosciuta anzi forse per niente ma in Francia lo è perché tra le sue tantissime attività è colei che ha in pratica messo su lo stato sociale francese tra le tante altre cose e allora io non voglio sottrarre tempo ci tratteremo un'oretta poi ci sarà un rifresco per brindare alla fortuna di questo libro e soprattutto alla fortuna di un progetto che è quello nel quale siamo tutti impegnati di cercare perlomeno di limitare o di risvegliare le coscienze verso un problema enorme che è tuttora attuale che è quello del femminicidio e che non è soltanto chiaramente una questione femminile è una questione maschile è una questione in pratica della società e Marie de Rennes apre negli spiragli incredibili che ci confrontano veramente ancora oggi e la lungimiranza di queste conferenze perché è la traduzione di conferenze che lei tende nelle 1891 se non che sono ancora tragicamente straordinariamente attuali dico tragicamente perché sono passati più di 130 anni ma sembra che il cammino fatto non sia tanto perlomeno a livello sociale forse è stato fatto come conquiste ma a livello vorrei dire di evoluzione di coscienze c'è ancora molto da fare pertanto ringrazio ancora il maestro Alessandro D'Agostini e lascio a lui la parola vorrei chiedere per iniziare una domanda che è luoco un direttore d'orchestra che nel 2023 si mette a tradurre il libro di un intellettuale francese di 130 anni prima cioè che cos'è che lo ha spinto e qual è il legame tra questo libro e la sua ricerca e la sua attività di intellettuale grazie innanzitutto grazie dell'accoglienza grazie ai nostri ospiti cioè quelli che ci ospitano fondamentalmente grazie all'agnese per questo invito io devo dire che sì mi sono chiesto delle volte perché cosa 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 interessa l'uomo in linea generale l'essere umano dei propri simili no e credo che ci sia un interesse che deriva dalle opere dei grandi del passato ma anche dalle figure che queste che personaggi come Maria de Rem hanno rappresentato e possono rappresentare anche nell'oggi nel presente ecco io come musicista ho il dovere innanzitutto di avere quanto più possibile un'ottica aperta un dovere anche di conoscenza ma perché questo non so Bruno Walter un grande un grande direttore d'orchestra diceva che è impossibile dirigere la pastorale di Beethoven se uno non si fa in maniera molto ingenua forse lo diceva però se uno non fa una passeggiata nei boschi non ama la natura ora questa è una banalità da un certo punto di vista però ha una sua importanza io credo che conoscere l'essere umano in tutte le sue sfaccettature sia per l'artista un dovere perché? perché questo noi siamo degli individui che comunichiamo e che comunichiamo anche attraverso l'esempio delle persone che ci hanno preceduto l'arte è proprio una forma di comunicazione alta che unisce le coscienze e permette di parlare di problematiche le più varie quanti femminicidi ci sono all'interno dell'opera lirica? se pensiamo solamente a questo noi siamo abituati a vedere l'opera come qualcosa di staccato, aulico un genere in realtà è un genere assolutamente attuale gli uomini parlano alla fine in ogni epoca di alcuni aspetti umani appunto di alcuni aspetti che pertengono all'essere umano di qualsiasi epoca valori come l'amore, valori come l'eroismo seppure declinati in maniera differente a seconda delle epoche sono comunque valori con i quali noi dobbiamo fare i conti anche oggi, anche nel 2024 quindi per rispondere a questa cosa sicuramente la curiosità c'è nel conoscere dei personaggi così importanti ma così anche poco conosciuti parlo dal plurale perché insieme ad altri due grandi amici abbiamo messo su un progetto editoriale che ha un po' dell'utopia primo perché è un progetto editoriale e perché insomma ci vuole coraggio a mettere su una casa editrice oggi e poi perché comunque la mira che Edizioni dello Straniero che è questa casa editrice che abbiamo fondato si pone è quello di riscoprire quei territori di confine appunto la letteratura di confine, quei territori anche un po' scomodi nei quali si prova, hanno provato gli intellettuali del passato a barcare i limiti, a barcare i limiti della propria realtà nella quale si trovavano ad agire e a vivere ecco Maria De Rem è una grandissima intellettuale che prima di tutto in quanto donna ma poi, e non è scontato dirlo, grandissima intellettuale al passo coi tempi in una maniera incredibile capace anzi di sopravvanzare, di immaginare un futuro possibile ecco, Maria De Rem è stata capace proprio di porre le basi per una rivoluzione di carattere sociale che poi è quella che oggi si chiama come prima ondata del femminismo prima ondata del femminismo che nasce appunto a seconda metà dell'ottocento arriva fino alla seconda guerra mondiale fondamentalmente poi c'è una pausa e poi riprende la seconda ondata del femminismo la prima ondata del femminismo trova in Maria De Rem una grandissima rappresentante sicuramente non l'unica ma sul suolo francese una delle protagoniste ecco quindi, diciamo, è un personaggio che mi ha affascinato personaggio che mi ha affascinato perché una persona che ha un coraggio incredibile pensate che è una delle poche donne che viene raffigurata in copertina di alcune sotto forma di caricatura in copertine molto molto famose di una rivista francese forse l'unica donna insieme a una pletora di uomini e questo la dice lunga su quanto in Francia in quel momento la sua figura avesse avuto impatto perché questa signora, perché aveva una quarantina d'anni quando fece queste conferenze a un certo punto parte è bellissimo lei nella prefazione a questa raccolta di discorsi lei lo dice, lo racconta diciamo, sfruttando quella finta quel finto liberismo dell'ultima parte del del secondo impero napoleonico quindi siamo appunto prima del 1870 quando appunto Napoleone III dà una serie di riforme di carattere liberale fintamente liberale lei le definisce così ecco, in questo momento in cui sembra tutto un pochettino più facile e possibile lei comincia a fare delle conferenze ma di carattere generale perché qual era il suo scopo? pensate quindi con che progetto si muove questa donna il progetto era parlare della donna del ruolo della donna però parla prima di comincia con conferenze di carattere generale appunto di carattere storico di carattere culturale in senso lato pacifiche per quanto possa essere pacifico questo personaggio perché poi io mi piacerebbe leggere anche qualche parte del libro qualche discorso ecco è un personaggio veramente forte forte dal carattere forte ecco questo a un certo punto vira verso una causa femminista badate bene il termine femminista è un po' improprio perché diciamo il termine viene utilizzato per la prima volta da Alexandre Dumas figlio Alexandre Dumas figlio è un personaggio che per Maria De Rem diventa quasi un'ossessione a un certo punto perché è un personaggio che attacca un personaggio che ha scritto le robe che oggi sono inaccettabili poi magari leggiamo anche qualcosa suo se ci avanza del tempo ma con il quale Maria De Rem entra in conflitto aperto e c'è un capitolo intero di questi discorsi che è dedicato proprio a confutare rigo per rigo alcune affermazioni di Alexandre Dumas contenute in un libro anzi in un pamphlet che si chiama appunto l'homme femme l'uomo donna e che è il primo la prima opera nella quale appare il termine femminismo e femminista ma è interessante capire in che senso Dumas utilizza questo che lui stesso definisce essere un etimolo perdono un neologismo lo utilizza in senso esclusivamente fisiologico come una patologia femminismo per Dumas è una patologia uno stato di alterazione del maschio dell'uomo in quanto effeminato quindi pensate come il termine appare per la prima volta in ambito letterario ecco il femminismo è quindi uno stato di effeminatezza dell'uomo questo termine appare abbiamo una data di nascita 1872 i discorsi di Maria de Rem sono in realtà del 1869 quindi poco prima della guerra franco-prussiana che è del 1870 71 e che tanto scompiglio porterà in Francia circa 1380 morti una roba scusate 138.000 morti perdono molto di più ecco una catastrofe incredibile dopo la quale Maria de Rem si troverà in prima linea a ricostruire la Francia in una direzione repubblicana in una direzione diversa rispetto al passato passando attraverso anche l'esperienza della comune vabbè adesso non mi sto a dilungare sui aspetti storici ma quello che è interessante è che lei è sempre in prima linea era in prima linea prima nel 1869 prima appunto di questa guerra è in prima linea durante gli anni della comune durante l'esperienza della comune è in prima linea nella ricostruzione repubblicana dopo quindi ed è sempre accesa sempre un personaggio forte un personaggio in primo piano appunto è un personaggio che crea insieme a Leon Richer una rivista importante siamo sempre nel 1869 quindi nell'epoca di questi discorsi che si chiama Le droit de femme il diritto delle donne ed è una rivista importantissima che pone in questa epoca la questione femminile con una forza anche nuova del tutto nuova e diventa un movimento in Francia diventa un movimento importante che poi anche dopo la guerra franco-prussiana viene sostenuto da intellettuali come Victor Hugo insomma primi intellettuali della cultura francese e poi adesso non mi sto a dilungare ripeto nella storia ma diciamo l'attività della Derem fino all'ultimo giorno della sua vita è in questo senso veramente importante lei dedica tutta la sua vita a questo tipo di attività lei gode pensate rileggevo proprio stamattina le donne lo stato lo stato dei diritti delle donne nella Francia dell'epoca era diciamo vincolato a quello che era il codice napoleonico che era del 1804 questo codice napoleonico impediva tantissimi diritti che noi oggi diamo per scontati per esempio impediva di gestire liberamente dei soldi guadagnati col proprio lavoro ad una donna sposata impediva poneva la donna sotto tutela del padre prima e del marito dopo ma era una tutela che si esplicava su tantissimi piani della vita paradossalmente chi era esente più libero in questo senso erano le donne celibi e le donne vedove ecco le due sorelle Derem erano una vedova e una celibe quindi avevano questa chiamiamola prospettiva privilegiata ecco chiamiamola così ma è interessante che proprio da questa prospettiva privilegiata partono i loro attacchi più forti soprattutto di Maria Derem contro lei è in prima linea anche per proporre nuove leggi quando avrà la possibilità sarà la firmataria di proposte di legge si schiererà sia conforme di protesta sia nei confronti del senato sia nei confronti insomma di questo famoso codice napoleonico che vincolava tanti diritti ecco allora il abbiamo ci saranno altri personaggi che ovviamente affiancheranno Derem in questo senso una delle più note è Hubertine O'Claire che è una diciamo femminista sempre uso ma questo nel suo caso il termine è più appropriato perché lei stessa si approprierà di questo di questo vocabolo trasformandolo però da quello che era una patologia per per Dumas in qualcosa di positivo in una lotta rivolta per esempio nel caso della O'Claire in primo luogo alla rivendicazione di un suffraggio femminile del suffraggio universale in realtà ecco sul suffraggio universale anche la Derem si pronuncia c'è un discorso che apparirà nel secondo volume adesso vi spiegherò anche vi racconto anche un po' di questo libro più nella fattispecie e che è dedicato espressivamente a questo argomento allora questi discorsi dicevo sono stati pronunziati da Maria Derem nella Salle del Capiussin una sala dove si svolgevano abitualmente delle conferenze nel 1869 sono dei discorsi che vennero raccolti poi nel 1891 e pubblicati da Maria Derem ma non sono tutti i discorsi che lei ha pubblicato sono quelli che lei è riuscita a ritrovare dopo che evidentemente per ragioni belliche la sua biblioteca era stata devastata appunto negli anni 1870-1871 e quindi quelli che lei è riuscita a recuperare sono questi che sono cinque discorsi a cui si aggiunge poi alla fine un discorso che è dedicato che si chiama Eva contro Diuma figlio che è proprio dedicato ha dedicato a confutare le affermazioni di quel volume di quel pamphlet di Alexandre Diuma di cui parlavo prima l'homme fam sono cinque discorsi cinque discorsi in cui questa donna davanti a un pubblico essenzialmente maschile parla di la donna è il diritto la donna è il costume la donna nella famiglia la donna nella società la donna nel teatro quindi declina come dire la figura femminile e la storia di come viene trattata nella visione una visione che lei sostiene essere esclusivamente maschilista la donna per tradizione dal diritto contemporaneo e del passato quindi fa una una diciamo la sua visione è anche molto storica è molto calata nella nelle nelle varie epoche non soltanto nella sua contemporanea il diritto il costume la famiglia appunto la società e il teatro che è tra l'altro una cosa interessantissima noi abbiamo parlato Agnese insomma anche il fatto che che io sia un direttore d'orchestra e spesso nelle trame delle opere troviamo figure delle donne di donne spesso nel settecento molto stereotipate ecco lei non parla di opera ma parla di di pièce teatrali di teatro di prosa nelle quali sottolinea appunto soprattutto nel settecento questo aspetto molto stereotipato della visione femminile e perché comunque attribuisce ovviamente sono opere lei dice sono opere di uomini quindi fondamentalmente la figura che traspare della donna è una visione sempre maschile e in questo modo anche quei personaggi dotati di guizzo come Susanne di Beaumarchais noi ce l'abbiamo presente nel mondo dell'opera nelle nozze di Figaro Mozartiane ecco che è un personaggio sicuramente frizzante sicuramente arguto ecco ma è sempre come dire rappresentato in una maniera così stereotipata nella quale comunque fondamentalmente alla fine il diciamo non viene alterato nulla della del di questo predominio maschile ecco lo dico in questi termini utilizzando dei termini proprio di 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 che ci va giù duro ecco su queste su queste affermazioni continuiamo bene grazie allora a me piacerebbe in questo incontro anche dare la voce a lei possibilmente a Maria De Rem attraverso questa traduzione diciamo è stato adesso vorrei fare un inciso però proprio sul sul piacere che per me è stato di dare la voce a questa donna dare la voce italiana ovviamente a una donna che si esprime ripeto per un pubblico francese anche in parte ostile perché noi abbiamo anche siamo a conoscenza anche del fatto che non è che questi discorsi venissero accolti con grande con grande favore da un pubblico che veniva sferzato veniva completamente sferzato con degli schiaffoni abbastanza netti e poi vi faccio sentire degli esempi però ecco per me devo dire dare voce a questa donna è stato molto affascinante perché dare la voce italiana intendo tradurre questa donna è stato molto interessante perché perché il linguaggio il tenore di queste di queste pagine è veramente vivacissimo cioè abbiamo un è un discorso diretto tutto sommato un discorso che ha un interlocutore maschile davanti e quindi come tale ha una vivacità e una forza contemporaneamente che è veramente un piacere apprezzare vi darò degli esempi comunque diciamo partendo da questi discorsi possiamo fare un'indagine insomma adesso senza senza tediarvi ma appunto vorrei dare voce appunto a queste pagine utilizzando un po' il percorso che lei fa il primo discorso che lei pone in questa raccolta è la donna e il diritto in realtà quello che lei fa da questo primo discorso è rintracciare le radici storiche del maschilismo partendo da un'epoca immemorabile non so come dire primigenia dalla creazione biblica addirittura ed è interessantissima questa pagina allora innanzitutto diciamo diciamo una cosa questa subordinazione della donna all'uomo per Derem non è un fatto naturale prego 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 allora la subordinazione femminile del diciamo la subordinazione femminile non è un fatto naturale e questa non è un'affermazione scontata per l'epoca in cui fu fu espressa e questa la subordinazione femminile è una diseguaglianza che ha un'origine storica ha un'origine storica e può essere rintracciata e come tale sovvertita questo è il il progetto che Maria Derem ha cioè dimostrare che non c'è una diciamo una diminuzione un essere ad un grado inferiore rispetto all'uomo della donna ma che è stato determinato solamente dalla storia da una storia scritta dagli uomini ma che e che questo quindi capire questo rendere noto questo con forza con la sua forza permetterà di sovvertire l'ordine delle cose quindi questo è il suo progetto di tutti questi discorsi di tutta la sua attività oratoria e questa è una cosa ripeto deflagrante per la sua epoca e quindi parte dal mito parte dal mito biblico e quindi dai sistemi cosmogonici da come nasce fa delle riflessioni su Dio dice a un certo punto se la creazione o il creatore è maschile perché ci dovrebbe essere bisogno di introdurre un elemento femminile perché nella Bibbia parte dalla cosa meno evidente semmai perché perché c'è bisogno di una Eva quando appunto già una creazione fatta da un creatore maschio rappresentato abitualmente qui in termini maschili dovrebbe essere di per sé perfetta se Dio è creatore maschio e ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza perché l'uomo non genera la discendenza il problema della discendenza queste sono tutte affermazioni che lei fa all'inizio di questa conferenza meravigliosa con cui apre l'argomento ed era la prima nell'ordine in cui apre l'argomento della questione femminile immaginate potete immaginare io cerco di immaginarlo le reazioni che possa aver provocato questo guardate che questa cosa del mito non è una cosa peregrina perché addirittura perché anche al giorno d'oggi ci sono delle studiose del femminismo ma anche filosofe che si sono interrogate sulla sulla scrittura dei miti antichi la prefazione di questa di questa raccolta di discorsi è a firma di Carlotta Cossutta che è una allieva di Adriana Cavarero Adriana Cavarero è una grandissima studiosa della storia del femminismo ma anche filosofa che ha dedicato numerose pagine per esempio al mito di Pandora ma lo dico soltanto come esempio del fatto che la mitologia è ampiamente studiata oggi dalle studiose del femminismo proprio per rintracciare quanto di scrittura maschile e maschilista quindi è contenuto in esso partendo dal mito ecco vi leggo quello che scrive a proposito di Adamo ed Eva tra l'uomo e la donna scrive proprio nel primo discorso la donna e il diritto vi è una differenza formale e non essenziale formale e non essenziale premetto una cosa Maria del Rehm non nasconde le differenze tra sessi pur parlando di eguaglianza di un'eguaglianza sociale di un'eguaglianza di potenzialità di un'eguaglianza non nasconde non mette sotto il tappeto le differenze di funzione ecco parliamo così e ci mancherebbe ma anche questo non è scontato perché c'è anche tutta una corrente femminista estremista che diciamo ha in questo senso forse ha tradito anche certe certe idee tra l'uomo e la donna vi è una differenza formale non essenziale entrambi sono usciti dalle mani del creatore e non è possibile invocare la regione dell'atavismo questo era un discorso molto legato alla filosofia dell'epoca va bene ma dell'incrocio di razze di sangue di diversi contesti di trasmissione di caratteri e della diversità di educazione tutto è identico tutto è paritetico tutto è nuovo sta parlando di Adamo e Deva è tutto è nuovo senza tradizione senza passato praticamente sta dicendo Adamo e Deva prima non c'era nulla quindi fondamentalmente non si può non si possono invocare diciamo prima di Adamo e Deva delle condizioni che determinassero la superiorità dell'uno rispetto all'altro perché mai allora uno di questi due elementi del genere umano creati per unirsi per penetrarsi allo scopo di perpetuare la specie sarebbe organizzato in maniera più difettosa dell'altro è logicissimo il discorso che Maria de Rame è figlia anche della logica francese bisogna dirlo e d'altro canto se si prendono in considerazione le circostanze in cui si è consumato il peccato originale ci si domanderà perché mai la donna venga considerata più in colpa dell'uomo e qui è divertente perché Maria de Rame ha una sottile ironia che è veramente coinvolgente quando la si scopre la si rintraccia quasi in ogni frase e questo è un altro tratto stilistico direi che rende questo personaggio veramente inarrivabile per quale vizio di costituzione ella è stata propensa a disobbedire per prima parla di Eva se possiede un difetto costitutivo il solo responsabile è il suo autore non ci piove su questo se d'altra parte Dio ha avuto il segreto proposito e dico segreto giacché Yahweh non l'ha mai espresso da nessuna parte il segreto proposito deve attribuire all'uomo una superiorità sulla donna bisognerà pensare che sarà rimasto particolarmente deluso dal fatto che l'uomo in questa prima infrazione ha dimostrato tanta stupidità e vigliaccheria senza opporsi razionalmente senza resistere egli si è fatto complice ingenuo della sua compagna la quale badate bene questa passa a me mi diverte molto la quale nella sua colpa si mostra infinitamente superiore poiché cede a un bisogno di conoscenza e di sapere sapete l'albero della conoscenza del sapere quindi io trovo queste affermazioni veramente spassose ma nello stesso tempo spietate spietate perché animate da questa logica inflessibile come ho detto francese figlia della della logica dall'altra parte spassose perché insomma c'è un'ironia sottile qui nella quale come dire la sua logica è come se fosse per Maria Delema una sorta di scudo con il quale lei può fronteggiare qualsiasi cavaliere passatemi il termine si trovi davanti impavida perché sono innegabili queste correlazioni logiche ecco ovviamente ci sono delle differenze dicevo prima ci sono delle differenze come dire che lei non che lei non non c'è la differenza di genere intendo nelle epoche primitive a un certo punto dice le occupazioni più nobili e allo stesso tempo più utili per l'uomo sono la caccia e la guerra per noi sono anche questi sono un po' dei luoghi comuni forse a sentire dire queste cose però credetemi lei li utilizza anche secondo me in maniera anche cosciente per un pubblico al quale stava dicendo queste cose usando anche il luogo comune e piegandolo per un discorso a quale lei vuole arrivare ricordate il fine ultimo cioè se queste cose non sono dettate dalla natura allora si possono cambiare dicevo le occupazioni più nobili per l'uomo sono la caccia e la guerra la caccia per nutrirsi va bene la guerra per difendersi e rispingere le invasioni nemiche sulla guerra poi farà farà un inciso splendido più tardi come potete ben immaginare questo ambito non è quello della donna la cui inferiorità muscolare è oggettiva queste sono le fasi della concorrenza vitale nelle quali l'esistenza si conquista a prezzo di lotte battaglie e combattimenti l'uomo accorda alla donna una specie di protettorato che assomiglia assai a un'oppressione quindi ecco sta slittando adesso verso quello che vuole dimostrare del resto è un dato di fatto che quando si ha bisogno di un protettore non si impongono condizioni al contrario ci si sottomette alle sue si è ipotizzato inoltre che le prime civiltà fossero orientali e qui c'è un discorso molto legato alla sua cultura anche questo fa parte del personaggio circostanza assai svantaggiosa per il genere femminile questa natura orientale la donna asiatica possiede una precocità fisica che le risulta certamente sfavorevole dal momento che è già donna fisicamente mentre è ancora una bambina intellettualmente facciamo ora una riflessione semplice se la pubertà della donna o per meglio dire la sua condizione inubile le due cose non debbono essere confuse è precoce l'uomo asiatico si trova certamente in uno stato simile egli è prolifico prima di essere produttore di pensiero la stoccata è micidiana diciamo assai semplicemente che l'uomo ha cercato per fas e tnefas di restare padrone a partire da quelle epoche brute egli si è impadronito con la forza del potere si è sforzato di umiliare la donna e non ha fatto altro che umiliare se stesso io trovo queste affermazioni di una sinteticità e nello stesso tempo ripeto di una spietatezza forse incredibile quindi ecco le ho citate queste cose perché appunto un tratto che a me piace molto è questo usare anche il luogo comune secondo me poteva essere anche un luogo comune per la sua epoca ma utilizzarlo in un'occasione pubblica in questa maniera per dimostrare un fine così importante io lo trovo geniale va beh c'è un'altra un'altra cosa importante che lei si sofferma a parlare appunto nel diritto in maniera particolare della condizione appunto subalterna della donna mantenuta in maniera subalterna della donna diciamo nel corso dei secoli ma non si come dire non si limita alla macroforma si sofferma anche sulle forme più sottili di inferiorizzazione femminile De Rem infatti Maria De Rem rifiuta anche quelle forme di glorificazione della donna che finiscono per limitarla questo è un altro aspetto molto molto interessante che secondo me e questo poi lo farò dopo il discorso potrebbe essere anche un'arma per esaminare alcuni aspetti della nostra realtà forme di glorificazione della donna che finiscono per limitarla il bersaglio di questa polemica è la galanteria l'idea di una fragilità femminile seducente guardate bene che nell'epoca in cui lei dice queste cose erano assai in voga penso al mondo dell'opera le donne così raffinate così decadenti così sensuali di Masné o di altri compositori dell'epoca che raffigurano questa donna appunto in termini molto molto raffinati appunto anche in termini glorificati perché se pensiamo alle opere di Masné sono tutti personaggi femminili i personaggi principali Thais appunto Manon parlo appunto di diritto del più importante ecco su questo aspetto della donna glorificata voglio leggervi ancora un passo sempre preso da questo primo discorso poi se vi annoio ditemi insomma io mi diverto ma insomma magari è un quello esatto allora della donna sensibile sentimentale scusate dalla donna sensibile sentimentale come venire affigurata spesso alla donna angelo il passo è breve ed ecco che le donne diventano angeli questo è come dire l'assunto iniziale non conosco gli angeli propendo assai volentieri a credere che esistano da qualche parte degli esseri più dotati di noi esseri che hanno molte più facoltà e molti meno bisogni solo che tali esseri hanno condizioni di esistenza diverse dalle nostre sono collocati in altri contesti quel che so è che tutte le volte che un angelo piomba qua giù viene trattato assai male detto questo dichiaro che di tutti i nemici della donna i più grandi sono coloro che la considerano come un angelo dire che la donna è un angelo significa obbligarla con un fare sentimentale e ammirato a tutti i doveri riservando per sé tutti i diritti significa sottintendere che la sua specialità è la modestia la rassegnazione il sacrificio significa insinuare che la più grande gloria la più grande felicità della donna è quella di immolarsi per coloro che ama significa farle comprendere che le si offriranno generosamente in scritto in corsivo tutte le occasioni per esercitare le sue attitudini e allora all'assolutismo e le risponderà con la sottomissione alla brutalità con la dolcezza all'indifferenza con la tenerezza all'incostanza con la fedeltà all'egoismo con la devozione ecco queste cose che io leggo con un tono un po' leggero se magari le decliniamo nel nostro presente ecco qualche brivido forse viene dopo questo lungo elenco rinuncio all'onore di essere un angelo non riconosco a nessuno il diritto di forzarmi a essere una sciocca e una vittima sono discorsi detti ripeto fino alla noia a un pubblico maschile in un contesto dedicato a discorsi a orazioni tenute da oratori maschili va bene il sacrificio di sé sul sacrificio di sé è speciale perché è particolare il discorso che fa perché poi lo ripeterà quando parlerà delle grandi figure del teatro come Ifigenia come ecco dedicherà un discorso molto analogo al sacrificio di sé il sacrificio di sé non è un'abitudine un'usanza ma un atto straordinario non fa parte del programma dei doveri nessuno nessun potere ha il diritto di impormelo di tutti gli atti il sacrificio è quello più libero ed è per questo che è tanto più ammirevole può accadere che io mi dedichi a un essere che amo questo essere è infelice sofferente e io cerco di alleviare la sua infelicità condividendola faccio di più se possibile attiro su di me la sciagura per preservarlo ma so che questa persona a me cara non si è posta in tale situazione penosa per sfruttarmi è anche quella una vittima involontaria tanto che compio il mio sacrificio volontariamente nulla mi obbliga ma se per partito preso di proposito per calcolo mi sfruttate a vostro vantaggio se mi dite indicandomi due posti eccone uno buono ed è mio quello è cattivo ed è per voi prendetelo forza grazie mille rispondo ma non lo voglio come lo rifiutate ma non eravate un angelo angelo sarete voi guardate a noi a noi vi fanno sorridere ed è giusto così perché questo era ma immaginate il contesto nel quale veniva pronunciato questo discorso io ero ero insomma traducendo dicevo ma non è possibile perché fondamentalmente erano discorsi assolutamente inediti ora un aspetto importante è dedicato anche alle classificazioni di donne che erano in auge nell'ottocento le donne venivano classificate in diversi chiamiamoli livelli perché erano proprio utilizzati come livelli e uno dei più grandi in questo senso era appunto Alexandre Dumas che in questo home fam definisce tre categorie di donna guardate sono discorsi che poi adesso io li cito perché servono per vedere la risposta della Derem ma sono discorsi che anche per qualche uomo della sua epoca fecero sensazione fecero una sensazione avversa poi mi soffermerò sull'home fam ma è interessante perché parla della vestale Dumas la donna vista come vestale e vergine quella che si immola alla causa più alta la matrona cioè la sposa e la madre e la prostituta la cortigiana ecco ecco in questo senso Maria Derem in questi primi discorsi diciamo ritrae l'uomo diviso tra queste varie soprattutto dalle ultime due diciamo figure di donna quindi la donna vista come la propria compagna che non può essere però la donna cortigiana ci sono stiamo parlando dell'epoca in cui appunto del 1800 ma insomma il discorso forse è anche attuale è un pochettino attuale ecco come dire l'uomo impone alle donne di essere virtuose lei dice e poi cerca però la compagnia delle cortigiane che poi disprezzano pubblicamente un fenomeno in cui sono coinvolte anche le donne guardate lei non risparmia nessuno come quelle fidanzate e madri che tollerano la prostituzione delle donne di classi inferiori con una vigliacca compiacenza per i propri rampolli maschi che presentano come una difesa delle proprie virtù allora è interessante perché come dire cosa propone Maria Derem e questo è forse uno degli aspetti più affascinanti perché a quel punto uno potrebbe dire va bene ma allora la donna madre come dire la donna matrona per citare questa definizione di Alexandre Dumas forse potrebbe cambiare il proprio come dire modo di fare e darsi a quello che veniva definito nell'ottocento l'amore libero quindi al di fuori della convenzione sociale ecco la soluzione per Maria Derem non è questa la soluzione non è l'amore libero e la sovversione della morale in questo in questo Maria Derem resta abbastanza moralista almeno in una maniera superficiale poi il discorso è molto raffinato è molto profondo Maria Derem si interroga ma esiste davvero l'amore libero l'amore è libero vi è libertà in amore si è liberi dopo un giuramento di rompere un legame senza arrecare un danno effettivo a un altro questa libertà obbliga il coniuge ad accettare questa rottura senza recriminazioni e senza opporre resistenza no lei dice allora è interessante e questo vado a un altro passo che è un altro discorso perché il discorso si fa difficile ma è interessante l'amore libero è una favola e per poco che lo si osservi è la peggiore delle catene quel che deriva più spesso dall'amore libero è l'allentamento della famiglia perché la libertà dell'amore non ammette obblighi né impegni né contratti scusate poiché la libertà dell'amore non ammette obblighi né impegni né contratti l'individuo alla ricerca della propria sola soddisfazione scivola a poco a poco lungo la china dell'egoismo inoltre come abbiamo già fatto notare le esigenze dei sensi si moltiplicano attraverso la loro coltivazione a oltranza la volontà che non ha mai reagito contro la tentazione a poco a poco si annulla allora la specie umana cedendo alle sollecitazioni della carne discende fino all'ultimo grado della mollezza e della degenerazione la bestialità lo conquista non vi sono più speranze per il progresso e il perfezionamento dell'umanità e questa è un'idea che per lei è centrale l'umanità al di là della questione femminile addirittura è in un continuo progresso è in una continua parabola ascendente di perfezionamento e in questo senso ammettere un amore libero un amore cioè che in sostanza si crea nuove catene perché esula dalla volontà da un atto di volontà ma è come dire è solamente un sottostare ai propri sensi fondamentalmente ecco e non è più frutto di una scelta non è più frutto di volontà ecco questo è un aspetto che è assolutamente respinto da Maria De Rembo quindi questa questa apparente moralità moralismo anzi di Maria De Rembo lo è solo in apparenza perché fondamentalmente per Maria De Rembo è esecrabile qualsiasi atto che non sia volontario dove non c'è una scelta precisa dall'individuo sia esso maschio sia esso femmina sia esso uomo sia esso donna se non c'è scelta la cosa è da respingere e questo è il discorso di base che fa sì che Maria De Rembo preferisca l'idea di famiglia come come dire un frutto di una scelta un frutto di una scelta consapevole perciò e solo per questo la pone come fondamento della società e badate bene che è chiaro che il discorso può essere anche molto connotato in senso storico perché lei scrive nell'ottocento la nostra idea di famiglia forse è più variegata è più colorata ma laddove non c'è scelta ecco per Maria De Rembo il discorso è da rispingere in questo senso anche lei inquadra il matrimonio il matrimonio come noi lo concepiamo cito come noi lo vogliamo deve compiersi secondo la legge del sentimento e della ragione che ci rappresentano nel nostro doppio aspetto maschile e femminile quindi lei parla di un aspetto maschile e femminile dentro ognuno di noi a prescindere dal nostro sesso ma legge del sentimento e della ragione sono legate come come dire quelle cose che sono alla base di una unione di qualsiasi genere potremmo dire forse noi oggi ma che sono comunque frutto di una scelta passiamo a tematiche forse un pochettino più leggere se volete perché mi piacerebbe leggervi adesso una cosa che ho trovato molto interessante che cosa ha comportato il mantenere la donna in uno stato di inferiorità da parte dell'uomo una prima idea è contenuta alla fine del discorso la donna nella società ed è questa sminuendo la donna guardate bene sono quattro righe in tutto ma densissime e sferzanti sminuendo la donna voi uomini avete sminuito voi stessi e la società ne è in debito ha fatto un discorso precedentemente sulla società appunto sul fatto che non coinvolgere una parte della società stessa della società civile cioè la donna nelle scelte parliamo di un'epoca in cui non c'era c'era un suffraggio maschile c'era addirittura stata la la teoria di un suffraggio censitario di censo ma comunque diciamo il suffraggio universale quindi anche femminile era di là da venire ancora ecco perfetto la società in queste condizioni così in cui c'è un suffraggio esclusivamente maschile evolve in condizione anomale non essendo in possesso di tutte le sue risorse ne consegue che le riforme che esige il progresso non giungono ad attuarsi le idee di patria di coesione umana e di perfezionamento che costituiscono il collante di ogni gruppo sociale non esistono che allo stato teorico senza valore pratico per la maggioranza non bisogna allora sorprendersi se l'ingiustizia l'immoralità e la guerra siano a loro culmine anche qui discorso logico logicissimo che diciamo davanti al quale non c'è una logica da opporre un'altra logica possibile ancora una cosa dicevo avevo promesso qualcosa di di più di più leggero lo faremo dopo ma continuando invece sul tono panflettistico della Derem dice lei si premunisce anche delle possibili critiche del proprio uditorio del proprio pubblico perché ovviamente sta parlando un po' più pubblico di uomini lo sapete mi si dirà che state facendo una critica sanguinosa contro le donne e che questo modo di rappresentarle indebolisce la legittimità delle vostre rivendicazioni di loro favore perché perché lei ha parlato del fatto che anche le donne hanno delle colpe la donna la donna della famiglia accettare come normali come acquisite dei comportamenti della parte maschile è comunque colpevole lei dice a un certo punto ecco lo sapete che state facendo una critica sanguinosa così facendo contro le donne che questo modo di rappresentarle indebolisce la legittimità delle vostre rivendicazioni in loro favore niente affatto tutto il contrario risponderò questa critica mette in luce la logica delle donne e l'illogicità degli uomini questo la dicevo soltanto la cito soltanto per per far capire i toni che lei usa decisi ecco facevo anche una riflessione sui toni che un discorso del genere così cosciente per l'epoca ma noi potremmo farne altrettanti al giorno d'oggi ecco i toni con cui viene condotto perché qui non si sta parlando di toni perdonatemi il tuffo nel presente da politically correct non sono toni rassicuranti non sono toni comodi noi oggi siamo molto abituati a toni comodi basta varcare certe soglie che arrivano delle forme di censura perché il politically correct impera perfetto questo però non significa rinunciare alla decisione delle proprie idee alla decisione dell'affermazione delle proprie idee ecco leggere questi discorsi a me fa venire in mente un modo di interagire con queste idee un modo di rappresentarle di esprimerle di esprimerle al quale forse noi ci stiamo disabituando è un discorso molto attuale secondo me ecco i discorsi che lei fa hanno veemenza ma non è una veemenza fine a se stessa come spesso siamo abituati dall'altra parte a vedere perché noi non abbiamo sfumature intermedie abbiamo o il politically correct oppure lo slogan o il grido abituati alla televisione alle nostre ai confronti di idee ecco che confronti non sono sono scontri e basta ecco lei tratta questa tematica così cosciente per lei donna in quel momento con una logica una freddezza ma una decisione una precisione e anche una veemenza che sono secondo me ammirevoli sono un esempio anche per noi oggi sono come linguaggio al di là del contenuto ecco questa è una riflessione che volevo anche rappresentarvi parlo adesso brevemente della parte del teatro poi toglimi pure il microfono se vuoi no allora sul teatro è molto divertente il discorso perché lei passa e rassegna il teatro dell'antichità fino ad arrivare ai giorni suoi lei in questi discorsi dice ieri sono andato a vedermi il dramma che hanno fatto al teatro dal dettaglio e vi dico che la trama è questa parla di cose assolutamente attuali dalla sua epoca probabilmente l'eco di questi discorsi che fece lo scalpore enorme potete immaginarlo ormai sarà arrivato anche agli autori teatrali io immagino di quei drammi comunque parlando del teatro ecco il discorso è divertente allora sì ecco vabbè parla di parte leggera ecco dice tutte le volte che negli annali dell'umanità è presente un fatto esecrabile i signori storici non mancano di attribuirne la responsabilità a una donna e quindi parla di Adamo ed Eva ecco nella tragedia antica e moderna predominano due tipologie femminili ifigenia e clitennestra ovvero il sacrificio di cui abbiamo già detto e il crimine nella commedia moderna fanno il loro ingresso in scena dei caratteri femminili diversi che si conquistano un posto più ampio arrivo perché quali sono questi caratteri differenti ecco quattro tipologie modellate non secondo la legge naturale che per lei è sempre un valore quasi sacrale ma secondo quella sociale determinata da una metà dell'umanità interessata a fare in modo che tutto vada avanti così ecco la progressione è questa di queste tipologie l'ingenua la donna onesta la civetta la cortigiana ciascuno di questi tipi corrisponde a un'esigenza dell'uomo guardate lo specchio che lei pone è pazzesco in poche parole alla soddisfazione dei suoi sensi a quella della sua immaginazione e infine del suo bisogno di tranquillità quindi anche quei personaggi citavo Susanna prima Susanna dalle nozze di Figaro Bommarchè ecco l'ingenua la donna onesta la civetta la cortigiana ci sono alcuni aspetti di Susanna che possono essere civettuoli ma anche la donna onesta come può essere la contessa all'inizio della nozze di Figaro che quasi si stupisce del fatto che Susanna la voglia far travestire perché lei si è dimenticata di quello che era e è diventata una contessa appunto e quindi è rientrata nella categorizzazione di donna onesta ecco dicevo in poche parole tutti questi tipi corrispondono a esigenze dell'uomo tutti i caratteri femminili che trovano posto sulla scena sono sciocchi mediocri furbi o perversi ecco Susanna rientra anche nel furbo e col nostro grande dispiacere siamo costretti a riconoscere che è la perversione ad attirare maggiormente l'attenzione del pubblico pensate ai drammi vabbè ve lo dirò dopo perché i drammi di cui lei parla suoi contemporanei spesso hanno tematiche morbose e con una certa perversione la cortigiana una volta introdotta sulla scena infatti dice ha annientato tutti gli altri aspetti della donna li assorbe è per lei che sono tenuti in serbo i grandi effetti teatrali ella sola ha il privilegio di esprimere l'ironia la passione e le sue violenze è lei che sale al più alto grado di intonazione drammatica è lei infine che ha il dono di impressionare di più gli spettatori ecco questo per dire appunto come questi aspetti siano proiezioni maschili sulla scena ora allora ci si potrebbe chiedere alla fine poi vabbè ci sono delle cose molto divertenti racconta le trame di queste cose di queste pièce teatrali sue contemporanee con una dovizia di ironia che veramente vi lascio il piacere di scoprirla qualora vogliate acquistare il libro che credo che sia lì alla cassa il teatro che rappresenta quel punto perché è così sotto è messo così sotto la lente di ingrandimento da parte di Maria De Rem il teatro lei dice qui dà anche delle notazioni di estetica il teatro ben inteso deve essere in forma fittizia la riproduzione della vita reale ecco in questo è molto figlia del del vogliamo dire positivismo della sua epoca comunque di una visione realistica ecco almeno ora se ne fate lo specchio dell'umanità con tutta la sua varietà di individui di famiglie di gruppi di nazioni che attraversano in diverse condizioni di peripezie di vicissitudine dell'esistenza troverete che è l'uomo riprodotto sulla base della realtà con le sue passioni i suoi vizi le sue piccolezze ma anche col suo genio la sua grandezza il suo eroismo nel caso della donna invece non è lo stesso la visione è parziale la convenzione ha la meglio sull'osservazione si attua a uno svilimento una diminuzione sistematica del genere femminile è facile constatarlo se viene messa in scena una figura maschile appartenente alla storia si tende nel caso a ingrandirla ulteriormente a ingrandirla ulteriormente a idealizzarla è resa tutta luce quasi senza ombre se questa figura è femminile si usa il procedimento contrario da si abbassa e sminuisce di proposito con perversioni o mediocrità come abbiamo già fatto notare queste cose lei le oggettivizza adesso sembrano affermazioni gratuite ma anche nei personaggi diciamo più a a luce e ombre penso per esempio a alcuni personaggi shakesperiani lei rintraccia degli aspetti veramente con un'arguzia impressionante per esempio mi viene in mente Ifigenia Ifigenia ecco è un personaggio di donna che si sacrifica appunto altissimo un personaggio eroico ecco ma è interessante perché lei si sofferma su un particolare che passa a volte in sordina ecco ed è questo allora lei dice a un certo punto che gli autori antichi sono ritornato appunto all'antichità però per 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 sottolineare questo aspetto gli autori sono costretti a volte a rappresentare la donna nella sua grandezza sono costretti badate bene so bene che i detti autori recuperano la situazione facendo confessare alle loro eroine la legittimità della condizione subalterna della donna quindi quando gli scappa che le raffigurano in una maniera grandiosa poi ecco fanno da loro stesse la loro stesse affermare delle cose improvvisamente appunto a loro favore a favore degli uomini fanno dire a Ifigenia quando si rassegna a sacrificare la propria vita questo io non me lo ricordavo sinceramente però insomma lei lo nota e lo sottolinea cosa dice Ifigenia che si sacrifica la vita di un uomo solo è più preziosa di quella di mille donne e se Diana vuol prendere il mio sangue io debole mortale potrò forse resistere alla Dea sarebbe impossibile mi sacrifico dunque alla Grecia e lei sottolinea dicendo non è Ifigenia la colpevole ma si tratta di un uomo che si è fatto interprete dei sentimenti della figlia di Agamennone parliamo del suo autore ma noi ignoriamo del tutto se l'Ifigenia in questione li abbia condivisi seppure è esistita va bene per andare verso una conclusione mi piaceva anche fare una riflessione su il personaggio appunto Maria De Remme su quanto questo libro io l'ho trovato attuale e calabile nel mondo perché sono discorsi ripeto 1869 a cosa servono? innanzitutto hanno un valore inestimabile dal punto di vista storico la prima ondata femminista è assolutamente sconosciuta in Italia cioè ovviamente prendete da tra virgolette con grano salis questa affermazione è comunque un periodo della storia del femminismo che è molto poco conosciuto almeno quindi sicuramente ha un valore storico e questo è innegabile ma quello che mi preme di più è vedere come ci sono dei motivi dei temi trattati in questi discorsi ai quali ancora oggi noi non abbiamo saputo dare una risposta sui quali ancora oggi noi ci interroghiamo per esempio appunto l'uguaglianza dei diritti partiamo da da questo partiamo da questo fatto ma l'uguaglianza civile che però mantenga le differenze mantenga le differenze di natura di funzione di funzione e non parlo di quella riproduttiva ma parlo del fatto di aspetti secondo me del femminile che poi è in ognuno di noi e del maschile che sono complementari in questo senso ma che non sono non vincolano sul piano dei diritti voglio dire un un aspetto femminile che la nostra società a volte non è così aperta nell'osservare anche nell'uomo nell'essere maschio geneticamente maschio ecco questi aspetti non devono avere una ricaduta sul piano dei diritti civili sono piani differenziabili e da differenziare le raffigurazioni stereotipate della donna noi ancora oggi siamo vittime di raffigurazioni stereotipate della donna anche dell'uomo anche dell'uomo sicuramente vabbè adesso io ovviamente parlo di Eva nel mondo e quindi anche dell'uomo sicuramente la tematica deluxoricidio ecco me la riservavo per ultima perché è l'ultimo discorso di questa serie ma forse uno dei più attuali ed è il discorso legato a quello che ho citato in apertura questo pamphlet di Alexandre Dumas che si intitola L'Homme Fam L'Homme Fam è una presa di posizione di Alexandre Dumas in relazione a un fatto di cronaca avvenuto nel 1872 credo che ebbe un grande riscontro sulla stampa dell'epoca un caso di uxoricidio un caso si chiamava Affair Du Bourg dal nome dell'uxoricida appunto un marito che sorpresa la moglie in flagranza di reato di adulterio di adulterio l'aveva uccisa e la legge la legge questo era il nodo bullus l'aveva assolto perché il codice napoleonico assolveva in caso di flagranza di reato l'uxoricida allora Alexandre Dumas ecco se avete fegato io non l'ho tradotto ho tradotto alcune pagine ma se avete fegato leggetelo perché veramente dà delle affermazioni insomma io sono rimasto scandalizzato da uomo e da essere umano perché veramente il grande scrittore del insomma che noi conosciamo dei romanzi così lui prese posizione contro ovviamente contro la donna a favore dell'uomo e per quale ragione guardate vi vi ecco da in questa in questa opera lui dà una tripartizione di cui dicevo prima dei ruoli delle donne in vestale matrona e etera chi si allontana dalla propria classe la definisce classe sovverte la natura e quindi e quindi e quindi e quindi è giusto esatto ecco giusto per il pamphlet finisce con questo passo questo ve lo leggo però perché in crescendo è un continuo crescendo lui sapeva scrivere sicuramente ma ecco quello che scriveva obiettivamente la donna secondo Diuma cito eh non ha valore uguale superiore o inferiore all'uomo ma ha un valore di un altro genere poiché è un essere che ha un'altra forma e un'altra funzione e questo potrebbe potrebbe andare ma poi comincia a declinare tutta la cosa e non ve lo leggo salto alla fine nel momento in cui una donna può esca esca dalla propria classe ecco lì si presenta il problema se tu uomo dice lui dice Diuma hai associato la tua vita a una creatura indegna di te se dopo aver in vano tentato di farne la sposa che doveva essere non hai potuto salvarla con la maternità ma che fa male sta roba lo so redenzione terrena del suo sesso la maternità redenzione terrena del suo sesso se non volendo più darti ascolto né come sposo né come padre né come amico né come maestro non soltanto abbandona i suoi figli si parla dell'adulterio no? non soltanto abbandona i suoi figli ma va col primo venuto a darne alla luce altri i quali continueranno quella razza maledetta nel mondo se nulla può impedirle di prostituire il tuo nome attraverso il suo corpo guardate il tuo nome prostituire il tuo nome attraverso il suo corpo se ti limita nella sua attività umana scusate nella tua attività umana se ti ferma nella tua azione divina l'uomo eh certo se la legge ha il potere di congiungervi ma non quello di disgiungervi siamo in un'epoca precedente e si dimostra impotente in casi come questi considerati personalmente a nome del tuo maestro il giudice e l'esecutore di questa creatura ella non è la tua donna non è una donna non è una donna è estranea alla concezione divina è un essere puramente animale la scimmia della terra di Nod la femmina di Caino due punti uccidila così finisce il saggio di questo pamphlet di Dumas ecco immaginate questo saggio di Dumas ecco oggi no sì immaginate questa roba che ovviamente fa far accapponare la pelle oggi 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 qualcuno potrebbe sentirsi autorizzato a seguire no perché se la donna si fosse accorta un attimino prima cioè diciamo si fosse svegliata a quest'ora cioè uomini non ce ne sarebbero nel mondo perché comunque finisce di procreare se la donna era adultera c'è anche l'uomo adultera quindi ma dico ma se la donna si fosse svegliata prima quindi anch'io uccido steppe praticamente mi stai praticamente tragendo comunque mi stai alla scena in questo momento uomini non ce ne serviranno più nel mondo è una delle conclusioni questa è una delle conclusioni in cui lei stessa arriva ma ma anche ma anche il fatto però il fatto però di mantenere il servaggio della donna è come dire causa anche di distruzione del mondo allo stesso livello cioè in ambedue i casi l'essere umano va a distruzione qualora non si ripristini un equilibrio tra i generi ecco questo è un aspetto importante ora io non voglio leggervi di proposito le confutazioni di Maria De Rem perché sono a parte perché sono lunghe no non sono lunghe non è vero però sono battute per battuta sono rigo per rigo inflessibile come una goccia cinese lei isola le singole parole fa un'opera quasi filologica direi isola questo testo parola per parola e confuta 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 lo distrugge e finisco dicendovi due ultime cose allora ecco lei si chiede a un certo punto e questa è la conclusione del suo di questo saggio su contro contro Alexandre Dumas si chiede qual è il risultato ottenuto con il servaggio della donna quello che si diceva prima eccolo numero uno impoverimento dell'umanità privata della metà delle sue forze due scissione dell'umanità in due campi rappresentanti ciascuno opposti interessi conseguenze movimento in senso opposto discordia disordine generale pensatelo oggi applicato ad altre categorie magari della nostra realtà e capite quanto questi discorsi siano attuali terzo immoralità perché dall'istante in cui vi sono due morali perché lei a un certo punto dice vi è una morale per gli uomini e una morale per le donne ecco in cui vi sono due morali non vi è più morale e come abbiamo detto la morale è la legge dell'ordine e questa è un'idea che lei esprime più volte quattro crisi punto mi si obietterà che in ogni epoca in ogni popolo si è sancita la subordinazione della donna è che nonostante questo vi è stata prosperità non lo direi così forte la storia registra più di una decadenza e se ci si questa è un'immagine storica che lei traccia in queste ultime dighe che è veramente quasi metastorica cioè quasi come se le decadenze fossero determinate a un certo punto da un isterilimento della società dovuto a questa mancanza di pari diritti ecco finché resterà un'ingiustizia della legge le società subiranno una minaccia di dissoluzione quello che dicevo prima quindi infine infine per concludere dice ha una speranza nel futuro perché dice ci stiamo riprovando adesso stiamo affrontando con la nuova con la repubblica testè proclamata stiamo prospettando un futuro anche su quello legislativo la repubblica sembra volersi affermare oggi e il diritto delle donne che marcia al suo fianco comincia a essere una questione con la quale bisogna fare i conti perseveriamo i nostri sforzi ogni verità ha il suo momento e dopo discorsi in cui è partita dal mito e ha tracciato questo destino sempre uguale di subordinazione la frase ogni verità ha il suo momento a me emoziona perché ha una fiducia illimitata nel futuro e però e però ci siamo come dire siamo nel futuro siamo già nel futuro noi siamo già nel futuro allora questo libro e adesso concludo veramente è il primo volume dei discorsi ne ne raduna 5 più il discorso sull'Alexandre Dumas a breve apparirà anche il secondo volume che è altrettanto se non ancora più interessante è dedicato a suffraggio universale appunto lei partecipa con un discorso a un meeting internazionale sulla buon costume della buon costume e da dedica al problema della prostituzione dei degli sforzi inenarrabili nella sua vita assieme ad altre diciamo altre compagne di percorso darà vita a degli istituti diciamo per la salvaguardia delle prostitute per l'aiuto materiale delle prostitute e alle figlie e i figli delle prostitute quindi attivamente non solo quei discorsi poi cito altri sono compresi ancora nel secondo volume altri tre volumi altri tre altri tre discorsi di questa serie pronunciata alla Salda e Capiussin che lei non aveva ritrovato in vita sono stati ritrovati successivamente pubblicati e noi li abbiamo tradotti e inclusi in questa serie infine un altro un saggio più esteso che è dedicato ai diritti del bambino un altro aspetto importante perché anche un altro tema fondamentale è la maternità che affronta anche già in questo primo volume i problemi della maternità e infine un altro aspetto che è legato alla figura di Maria De Rem è il discorso che lei fa all'atto della sua iniziazione massonica perché Maria De Rem è anche la fondatrice insieme a George Martina del primo ordine massonico misto internazionale quindi diciamo una figura a tutto tondo è interessante perché il discorso che lei fa all'atto della sua iniziazione a me ha fatto veramente sorridere non poco perché non è che dice grazie di avermi accolta no dice no voi avete fatto questa piccola cosa ma avete fatto soltanto un piccolo passo c'è ancora tanto da fare dovete iniziare le donne non solo una cioè è una roba anche in quell'atmosfera protetta dove poteva magari abbandonarsi a un elogio fino a se stesso no dai sferza ci dà giù bene questo a me fa piacere che insomma di essere qui di aver pronunciato un po' di parole a favore di questa donna perché è una donna che veramente a me ha affascinato tantissimo e se insomma ho visto che stimola discorsi anche tra voi e e questo è la speranza con la quale noi abbiamo fatto quest'opera di traduzione cioè che questa figura venga conosciuta ma venga sentita nella sua attualità perché la forza di un libro e di un saggio di questo di questo genere è nel presente non è lettera morta ecco quindi vi ringrazio grazie grazie io ringrazio il maestro Dallustini perché per la sua appassionata e appassionante presentazione di questo di questo libro che ci interroga sono passati 200 anni ma come abbiamo sentito come abbiamo sentito purtroppo i temi proposti sono ancora sul nostro tavolo perché secondo me certo i diritti civili come dicevo in gran parte sono acquisiti in gran parte ma non tutti perché ce ne sono ancora però gli stereotipi presenti allora che lei rappresenta nel teatro che è vita sono ancora nella nostra società fatichiamo ad uscire da questi stereotipi sia maschile che femminile d'altra parte come diceva il maestro Marina Rem è stata la fondatrice di un ordine misto manco a dirlo un ordine internazionale manco a dirlo perché l'apertura di mente di questa donna era tale che apre delle porte nel leggerla si aprono nella mente tante porte quindi lei è sempre attuale io mi chiedevo lei era avanti rispetto ai suoi tempi certo che era avanti però mi chiedo era avanti lei e di molto e quanto siamo indietro a noi se ancora lei ci parla di queste cose e siamo ancora in mezzo a questi problemi e quindi ecco la riflessione costante e l'attenzione costante io ricordo una frase di Marina Rem tra le tante perché era una persona provocatoria destrutturante sicuramente non è sufficiente avere dei principi devi sapere perché li hai e da dove ti provengono cioè quanto diamo per scontato abbiamo dei principi ecco no lei insiste persiste nel suo scavare veramente le ragioni del nostro comportamento del nostro pensiero e quindi ha creato quest'ordine a cui non ho difficoltà a dire appartengo e appartengo orgogliosamente lasciatemelo dire perché i massoni in genere si nascondono in Italia perché la fama che ha la massoneria purtroppo è stata rovinata da da delle persone che non sono massoni che sono persone che appartengono alla massoneria così come io dico sempre ci sono dei preti affaristi e pedofili ma la chiesa non è fatta tutta di pedofili gli affaristi e così la massoneria questa nobilissima istituzione che Marie de Reym ha voluto fondare ha voluto mista uno degli emblemi della massoneria che la Marie de Reym ha fondato è la mixité mixité non è soltanto la unione dell'uomo e della donna come entità sociali ma mixité veramente mixité di idee mixité di culture mixité di integrazione personale nelle varie istanze che ciascuno ha a vari livelli e quindi credo che che sia un argomento assolutamente da rivalutare e voglio dire togliere dei pregiudizi ecco perché Marie de Reym ha dato delle botte micidiali ai pregiudizi e ai tabù dei tempi e noi siamo ancora purtroppo vittime di tantissimi vizi e di tantissimi pregiudizi e di tabù e allora credo che questo discorso di Marie de Reym ci chiama un po' a risvegliarci ad essere più attivi più accorti più accorti nel nostro modo di pensare di essere e con ciò quindi continuo ancora a ringraziare l'appassionante presentazione del maestro e se c'è qualcuno che vuole intervenire prima di brindare direi a questo libro alla sua fortuna ma direi brindare alla fortuna del contenuti che porta ancora è interessante che in alcune conferenze di quelle pubblicate successivamente ci sono anche gli interventi non gli interventi ma comunque le reazioni del pubblico sono annotate allora ci sono a volte ci sono appunto degli lei si metteva a interloquire anche con i suoi col suo pubblico era molto insomma per i coraggiosi che usavano interloquire sicuramente sicuramente sì quindi essendo massona la Beren è stata iniziata ovviamente dagli uomini perché prima non c'erano è stata iniziata da sette coraggiosi è stato uno sforzo da sette coraggiosi massoni del grande oriente di francia che trasgredendo alle loro regole hanno iniziato delle donne sì hanno disconosciuto quello che era la loro logica no woman diciamo che tutta la vita di Marie de Rennes è all'insegna della trasgressione che noi adesso questo termine lo usiamo in senso negativo ma in senso letterale è trasgredire andare oltre quindi raccogliere ciò che abbiamo per traghettarlo in una dimensione ulteriore ed è questa anche un po' la difficoltà che abbiamo di andare oltre le nostre attuali posizioni e quindi sì è stata opera di una trasgressione la fondazione dell'ordine sì sulla parola trasgressione obiettivamente su come viene considerata è proprio la negazione e la trasgressione come viene considerata cioè la trasgressione se è trasgressione è fare un atto sessuale in realtà sto imitando quello che mi è stato mi è stato propinato come trasgressivo e quindi è proprio la negazione di qualsiasi trasgressione adesso nell'immaginario abbiamo questo oggi in realtà trasgredire è proprio così è andare oltre è andare oltre il limite e questo lei lo fa in qualsiasi pagina di questo libro lo erige a metodo ma non perché perché lo sente come una necessità ecco poi alla fine appunto anche lì c'è una trasgressione fino a se stessa è una trasgressione per una necessità che non sia però quella belluina quella proprio terra terra insomma come dire ma per una esigenza ideale ideale ecco questo è un principio che per dei principi di cui lei si interroga appunto come giustamente ricordavi di cui si interroga sulla ragione di questi principi quindi è un discorso che parte veramente con una coerenza logica e una profondità ecco queste non sono attuali ecco questo io non le trovo molto attuali sì volevo esprimere un pensiero su questo bellissimo bellissimo momento che abbiamo vissuto grazie a voi grazie a Maria della quale della quale mi colpisce molto diciamo insieme a questo concetto di tradizione vedo che questo concetto è animato invece da un principio di armonizzazione completa di tutto di tutto l'universo e quindi chiaramente di coloro che ne fanno parte quindi il desiderio è la volontà di portare la donna e l'uomo insomma comunque l'individuo comunque sia per natura ad un punto di armonia di equilibrio reciproco e anche personale individuale credo che sia il principio fondante di questa grande pensatrice che appunto poi ha portato il suo interiore pensiero a partecipare a entrare volontariamente nell'istituzione masonica laddove la donna non era assolutamente ammessa e quindi tutto ciò che la donna deve conquistare con la sua volontà doveva essere anche quel campo lì nel quale poi lei ha portato avanti altre esigenze interiori spirituali tutto è sempre per realizzare un principio utopico che lo è ancora in fondo ma è il principio dell'armonizzazione degli opposti quindi un principio di libertà di uguaglianza fratellanza che è sempre citato questo principio ma come vediamo anche oggi è difficilissimo purtroppo da realizzare anzi stiamo veramente calpestando tutto quello che la natura ci ha donato sì perché anche la capacità di dialogo è venuta meno come dicevo prima quindi le occasioni per armonizzare opposti sono abbastanza ridotte anzi prego volevo soltanto esprimere un ringraziamento per aver un ringraziamento di un ringraziamento di un ringraziamento Grazie a tutti.